Siamo alla vigilia della festa di Cristo Re, che è la festa titolare del Movimento Regno Uncristi. In questa particolare occasione voglio salutare tutti i membri del Regno Uncristi, assicurando loro un ricordo nelle mie preghiere. Penso in particolare a tutti i membri laici che nel giorno di Cristo Re celebrano il giorno del Regno. Penso alle consagrate, ai consagrati e ai legionari di Cristo, che oltre a celebrare la festa di Cristo Re come festa propria, avranno le assemblee e il capitolo generale. E penso anche ai delegati laici del Regno Uncristi, che verranno all'assemblea del Regno Uncristi. Celebraremo la solennità di Cristo Re nel bel mezzo del capitolo e delle assemblee. Nel Vangelo di San Giovanni, Gesù Cristo ci dice che il Suo Regno non è di questo mondo. E noi lottiamo, ci sforziamo, viviamo in un combattimento spirituale per fare sì che il Suo Regno sia presente nel mondo. Sembra un'apparente contraddizione. Il mio Regno non è di questo mondo e noi invece lottiamo per fare sì che il Suo Regno si faccia presente nel mondo. Il Suo Regno inizia interiormente, inizia nel nostro cuore. Ci cambia con la Sua presenza, ci cambia con il Suo amore. Trasforma il nostro cuore. Ci rende Suoi apostoli, Suoi strumenti, affinché Cristo sia presente. Sappiamo bene che il Suo Regno non è di questo mondo, perché non giunge a pienezza quaggiù. Il Suo Regno si compirà in pienezza solamente nel cielo. Ma fin da ora vogliamo che l'amore di Cristo sia presente nella vita, nei cuori, nelle famiglie, nel lavoro. Questo è il nostro carisma. Venga il Tuo Regno, perché vogliamo che il Tuo amore e la Tua presenza trasformi le nostre vite. Venga il Tuo Regno, perché vogliamo che il Tuo Vangelo trasformi la società. Venga il Tuo Regno, perché vogliamo essere sempre Tuoi apostoli e Tuoi strumenti. Vi faccio tanti auguri in questo giorno del Regno e vi chiedo preghiere per le Assemblee delle Consacrate e dei Consacrati e per l'Assemblea Generale. Speriamo che alla fine di questo periodo, in cui abbiamo lavorato tanto, possiamo presentare alla Santa Sede gli Statuti del Regno Uncristi. Grazie. 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 Grazie.